La rivista di moda fashionista, una delle più apprezzate del settore, ha messo insieme una classifica dei migliori negozi di fast fashion, cioè i rivenditori di quelle aziende di abbigliamento, che producono e vendono capi economici ma molto alla moda, facendo numerose collezioni nel corso dell'anno. La classifica, limitata ai marchi dedicati alle donne, è basata sui giudizi della redazione, e tiene conto sia dello stile dei diversi marchi, sia dei materiali, e della fattura con cui sono realizzati. Per quanto riguarda i prezzi, sono stati tenuti in considerazione in rapporto alla qualità, a discrezione dei redattori della rivista. Purtroppo non tutti i negozi recensiti da fashionista, sono presenti in Italia, ma la maggior parte sì. E comunque ci sono gli store online se proprio volete fare acquisti in quelli che non ci sono.